black live matters le vite dei neri contano è l'hashtag poi diventato lo slogan da cui prende il nome la principale organizzazione del più ampio movimento che dal 2012 negli Stati Uniti si mobilita contro la violenza brutale discriminatoria e razzista delle polizie nei confronti soprattutto degli afroamericani ma anche di altre minoranze black live matters è diventata famosa in tutto il mondo in seguito alle proteste come hanno preso parte non solo neri ma anche bianchi e altre minoranze che sono scoppiate prima Minneapolis e poi in tutti gli Stati Uniti e in seguito all'uccisione del rapper nero George Floyd del 25 maggio del 2020 da parte di un poliziotto bianco e riprese in un video che poi è diventato virale proprio di recente l'agente è stato condannato per omicidio ma si tratta di un evento raro poiché di solito i poliziotti bianchi non vengono condannati in casi simili infatti questo evento non viene ritenuto risolutivo da black live matters poiché la violenza poliziesca contro i neri non riguarda casi isolati ma è la conseguenza di una discriminazione razziale e sociale sistemica negli Stati Uniti ma anche in altri paesi quindi per black live matters i cambiamenti devono essere radicali e sistemici e non soltanto occasionali grazie grazie